Matti Costruzioni Dal 1958 immobili di pregio in oltre Popavese e nella riviera Ligure Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia La prestigiosa Villa Manila a pochi metri dal mare di Varazze Costruzione in zone centrali e residenziali di pregio Ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi Contattaci, ti aspettiamo a Voghera in via Meucci 5 Si è concluso mercoledì 9 agosto presso il ristorante al volo di Riva Nazzano Terme Il Summer Tour di Buglie e Pupe, l'iniziativa benefica che ha visto protagonisti i concorrenti Della prima edizione del Talent di JapTV Le tre date, grazie all'ingresso d'offerta e alla generosità del pubblico Hanno permesso di raccogliere un totale di 1.085 euro Il ricavato è stato devoluto agli amici del quarto piano Un gruppo spontaneo di volontari che dal 2013 si occupa di organizzare laboratori E attività di intrattenimento ludico-educative per i bambini e ragazzi Ricoverati presso il reparto di onco-ematologia pediatrica del Policlinico San Matteo Presenti tra il pubblico il fondatore dell'attività di volontariato Alessandro Baldi Ed il primario del reparto, il dottor Marco Zecca Ingredienti dell'ultima data sono stati come sempre musica dal vivo, danza, teatro e poesia Nel mese di settembre sarà in vendita il DVD ufficiale del Buglie Pupe Summer Tour Con le riprese integrali della data del 9 agosto e alcuni contenuti extra Una parte del ricavato verrà ulteriormente devoluta agli amici del quarto piano Grazie per la visione! Grazie! Grazie! Grazie!